Attenti, miei signori, con arco ventenuto, e segui voi dovrete quel che dirò. Questo è il passo del violino, lai, 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 lai. Cosa ha fatto quel mio caro, bio, 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 si incomincia ancora il passo, maledetto contralasso, maledetto, maledetto, cosa ha diato qui si fa, cosa ha diato qui si fa. Questo è il passi dei violini, lai, 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 ila, lai, lai. Laimani, prego, devalate, imparate a incontare, altrimenti non si fa, altrimenti non si fa. A presto A presto A presto A presto